Bianconeri, sulle cente! La Forte Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club di Zano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juve Milan. Dodicesima giornata di campionato domenica 10 novembre ore 20.45. Viaggio di andata e ritorno più di letto stadio. Siamo a Lizzano, in piazza Matteotti 22. Per info e contatti, Antonio 348 808 8803. Cristian 349 68 000 66. Giuseppe 347 04 17 623. E grida con noi, forza Juve, fino alla fine.